I pulcini e gli esordienti giovanissimi del Baby Brasil, squadra di calcio di San Nicolò, sono stati allenati questo pomeriggio da due mister particolari. Gli ex giocatori della nazionale Chico Evani e Roberto Mussi hanno ottenuto infatti una lezione pratica sul controllo della palla e sui passaggi ad una settantina di ragazzini al campo di calcio di San Nicolò. Dal suo osservatorio com'è lo stato di salute del calcio giovanile? Diciamo che negli ultimi anni si sta muovendo qualcosa, nel senso che a cominciare dalla federazione si sta osservando che comunque un po' più di attenzione a livello giovanile esiste, anche perché le società secondo me in questo momento di grande difficoltà devono attingere per forza dal settore giovanile per poter risanare i bilanci e per poter fare dei progetti futuri importanti. Siamo lontani dai livelli europei? Beh, con fronte a alcune nazioni sicuramente, vedi Germania, vedi Spagna, perché loro sono partiti molto prima rispetto a noi. Noi abbiamo curato soprattutto le prime squadre, andando a investire negli giocatori stranieri a piene mani, anche se non erano dei grandi campioni comunque l'importante è avere il nome straniero in squadra. Diciamo che invece negli ultimi anni qualcosa sta cambiando e si vedono già i risultati perché si cominciano a vedere dei giovani interessanti anche in Italia. Lei è stato allenato da un grande, da Arrigo Sacchi, vede adesso un nuovo Arrigo Sacchi nel panorama odierno? Beh, diciamo che c'è qualcuno che si può avvicinare e in questo momento vedo Sarri. Sarri che sta facendo a Napoli grandi cose, anche se non è riuscito ancora a centrare obiettivi importanti, però comunque a livello di gioco si vede già la mano importante. Qual è lo stato di salute dei pulcini e degli esordienti del Baby Brasil? Abbiamo reiniziato l'anno scorso con le attività, quindi abbiamo aumentato il numero dei bambini, abbiamo ripreso a fare attività appunto di settore giovanile, siamo molto contenti, abbiamo tre squadre di pulcini, abbiamo tutte le categorie tranne gli allievi che non abbiamo fatto per scelta appunto per riprendere, quindi abbiamo quasi 200 tesserati, stiamo facendo una buona attività qua a San Nicolò, stiamo ricoinvolgendo il paese ed è quello che interessa a noi.